Buonasera a tutti, benvenuti al nuovo appuntamento in Piazzetta Pagnasco con i libri. Stasera abbiamo il piacere di presentare Agatha Bazzi, che ha scritto per Mondadori e non dice là, romanzo storico che attraversa una parte importante della storia di Palermo. Perciò cercheremo di raccontare quelle che sono le parti più salienti, le popularità di un libro che affronta diverse tematiche, quindi la Palermo Felicissima, la Palermo del Industriale, ma anche la Palermo del Ventennio, quindi la Palermo che ha affrontato quelle che sono state le leggi razziali dell'epoca fascista. La Palermo che prima ha accolto gli Arens, Aldo e il Tarens in realtà, arrivano a Palermo e che poi lo scopriano di leggere il libro. Per fare tutto questo ci avvaliamo di Agostina Passantino, aiuto preziosissimo, e a questo punto io cedo la parola all'autrice per un saluto, quindi cominciamo a schiacchierare la Palermo. Grazie a tutti, grazie di essere qui, grazie a Presidente della soluzione che è tutta Pagiasco, che è bellissima, ed è un'idea geniale avere trasformato questo spazio in un saluto. Sono molto contenta di continuare a parlare di questo libro che è una cosa che mi riguarda personalmente, come poi forse Agostina mi farà il dire, e grazie ad Agostina moltissimo per aver accettato di farlo. Grazie a tutti. Buonasera, per me non può essere che un piacere, un'occasione appunto per conoscere... Per me è stato sicuramente un piacere, ed è un piacere essere qui per presentare questo volume, la lucella, appunto di aver avuto modo di conoscere anche l'autrice Agata Baudi, con cui appunto abbiamo chiacchierato, appunto abbiamo avuto una ampia per conoscione anche che è ricordato gli argomenti del libro, ma come abbiamo scelto appunto la conoscenza al volume, la prima cosa che mi viene da domandare è perché proprio io sono di un fatto attivo, la prima cosa che ogni... Il bello della diretta, ora sì, ora mi sento pure io. Quindi come dicevo per me è un piacere essere qui, ringrazio tutti, ringrazio Giovanni, ringrazio il presidente dell'associazione e soprattutto anche ringrazio l'autrice perché ho avuto modo di conoscerla prima di scambiare delle quattro chiacchiere, prima appunto di essere qui con voi. La prima domanda che voglio fare riguarda semplicemente un aspetto materiale del libro, perché da lettrice appassionata e callito come mi definisco, penso che il primo impatto che si ha con un libro è quello del libro come manufatto, io anche per deformazione professionale sono bibliotecaria, quindi il libro come manufatto, ed è appunto la copertina e il titolo, quindi mi viene da domandare il titolo di questo volume, La luce è là, perché questo titolo è da cosa muove insomma le fila per svolgere la trama del contenuto? La luce è là, è una delle traduzioni, quella che io ho trovato più interessante e più vicino allo spirito del libro, di una iscrizione che c'è ancora sul timpano della villa, di Villa Arens, e che raffigura un'aquila che tiene fra gli artigli la ragione sociale della ditta Arens e che ha sul petto la stella di Davide e la scritta Lickdor. Lickdor, io ho interrogato tutte le cugine e tutti gli zii, nessuno mi ha detto con precisione che lingua è, è una specie di via di mezzo fra il tedesco e l'idisch, credo, ma soprattutto le traduzioni, una delle traduzioni che è stata tramandata in famiglia è sempre avanti. Poi mia cugina Maria Teresa ha tradotto questa parola con la lucella, La lucella mi è sembrata incredibilmente pertinente allo spirito della famiglia perché la lucella è un messaggio di ottimismo, la lucella è una meta da raggiungere ed è un percorso illuminato da una luce. Questo in fondo è il racconto degli Arens, un racconto di una vita complicata, di disavventure, di avventure, di dolori, di gioie, ma sempre illuminati da una luce che è una luce positiva, ottimista, concretamente ottimista. Quindi abbiamo svelato che si tratta di un libro che riguarda una famiglia siciliana che opera nel Palermitano, ma non solo è un romanzo, ma è anche un romanzo storico possiamo dire perché comunque la famiglia è realmente esistita, quindi comunque muove le fila da uno dei fatti veramente accaduti. Nella contispecie appunto la famiglia degli Arens arriva qui a Palermo nel 1875, se non sbaglio, dalla Germania. Per questo appunto si nominava la villa Arens, che altri non è, che è la villa ancora esistente qui a Palermo nei pressi di credo San Lorenzo, dove adesso è la sede della DIA. E quindi appunto questa famiglia di cui l'autrice adesso ci parlerà in maniera più approfondita perché la riguarda da vicino, perché appunto si è scelta appunto questo intreccio familiare. Questa famiglia è una famiglia vastissima e presentissima, con dei forti legavi ancora, diciamo giro, una delle ventidue, giro. Albert arriva a Palermo nel 1875, giovane, ebreo, tedesco, povero, pieno di idee, pieno di competenze, pieno di progetti, però povero. E in pochissimi anni mette in piedi un piccolo impero industriale, diventa ricco, entra nella buona società palermitana e a quel punto ricorda una ragazza che aveva conosciuto, che aveva incontrato una sera a teatro sette anni prima ad Hamburgo. Albert e Johanna mettono al mondo otto figli, due maschi e sei femmine. Una delle femmine è mia nonna, le sei sorelle Arendt, tutte vissute quasi fino a cento anni, hanno tenuto insieme la famiglia per generazioni e generazioni. Ancora adesso, vabbè, quelli della mia generazione abbiamo conosciuto le nonne, ci consideriamo cugini come se fosse una cosa normale, in realtà siamo cugini di secondo grado. Ancora cugini si chiamano i nostri figli, che hanno un fortissimo senso di appartenenza a questa famiglia. Prima di Natale, per ringraziare i parenti, quelli più vicini, che erano stati così affettuosi, li ho invitati a un aperitivo a casa mia, eravamo 52, il più anziano aveva 92 anni, il più piccolo ne aveva 7, ed eravamo tutti cugini. Io credo che questo legame, che è un legame fatto di storia e di storie, ma è un legame fatto di valori e di comportamenti. Io riconosco con le mie cugine, con i loro figli, le stesse battute di spirito, lo stesso modo di affrontare la vita, la stessa concretezza, se vogliamo, la stessa serena concretezza nell'affrontare e nel giudicare le cose, e poi nel farle, perché questa è stata una caratteristica degli Arendt, quello di non sognare utopie, ma programmare, rimboccarsi le maniche, e poi fare le cose. In un'epoca in cui le donne non facevano le cose, in un'epoca in cui le donne non facevano lavori da uomo, non andavano all'università, le sorelle Arendt erano assolutamente serene, senza nessuna volontà di affermazione o di rivendicazione, erano semplicemente quello che erano, facevano quello che ritenevano giusto, insegnavano ai loro figli a fare quello che ritenevano giusto e tenevano tutti uniti questo vegame che, ripeto, ancora c'è. C'è tutta una parte della famiglia in Francia, per esempio, io non li conosco tutti, ma sempre ci chiamiamo cugini e tutte le volte si riprende il discorso come se non fosse mai interrotto. Quanto c'è di reale e quanto c'è di romanzato, chiamiamolo così, fettizio, di narrazione all'interno del libro? 22 cugini, ognuno ha pezzi di arredamento, gioielli, aneddoti, sciarpe, fotografie, scatole, lettere, quindi ognuno ha un bagaglio di materiale, di cose e di racconti fatti dalle nonne. A un certo punto, appunto, con una delle mie cugine, Maria Teresa, abbiamo detto ma senti, vediamo che roba c'è qua. E quindi la prima cosa è stata quella di ricomporre un puzzle. Ognuno metteva un pezzettino, abbiamo scritto delle mail ai cugini francesi e da lì arrivavano altri racconti. Quindi fino a questo punto era la ricostruzione, attraverso pezzi materiali e pezzi, diciamo, raccontati, di una storia vera. Poi ho fatto leggere questo progliaccio che avevo nel frattempo scritto a delle persone che con la famiglia non c'entravano niente. Mi hanno detto, sì, è molto interessante per tua figlia, per le tue cugine, per i tuoi nipoti, ma se tu vuoi scrivere un romanzo devi, come dire, trasmettere un linguaggio universale. Il linguaggio universale non poteva che passare dall'interpretazione dei sentimenti. E allora se io ho il racconto e anche l'oggetto del telegramma, con cui Ioanna risponde alla domanda di matrimonio, tutto il resto, Albert che aspetta questa risposta, che non riesce a leggere il giornale, che poi va a prenderla alla stazione e compra i fiori e non so che fiori le piacciono. Questo è il romanzo. Così come è il romanzo il fatto di legare la famiglia alla storia dell'Europa. Prima di diventare il romanzo è stata una vera ricerca. Io ho dovuto studiare per almeno un anno perché gli Arendt non solo fanno parte della storia di Palermo, ma fanno assolutamente parte della storia di Europa. E quindi immaginare i sentimenti, trasformare i racconti e gli oggetti in sentimenti universali ha, come dire, cambiato la rotta da memoir di famiglia a romanzo. E infatti una mia osservazione, appunto, partendo da questa riflessione, è quella appunto del fatto che questa famiglia parte dalla Germania, quindi a Hamburgo, se non ricordo male. Poi ho visto che c'è anche una ramificazione che passa per il Napoletano, verso Napoli, e poi arrivano qui nel 1875 con Albert Arenz, appunto, il capostipite della famiglia. Quindi per quanto riguarda Palermo, la storia della locale, si racchiude in un arco temporale che va dal 1875 fino al 1958. Quindi con uno scarto di pochi ventenni o quasi cento anni si è racchiuto in questo libro. Quindi siamo negli anni della Palermo Felicissima, della Palermo Liberty, quindi delle grandi architetture in stile Liberty, della Palermo Fiorente, della grande esposizione nazionale. E appunto questa famiglia operava in questo territorio che comunque la società plasma in un certo modo chi opera all'interno di un determinato contesto anche storico, artistico e culturale. Quindi volevo anche domandare, la ricerca appunto fatta per la storia locale, da dove è partita? E' partita da una considerazione, anzi da una domanda fatta al contrario. Mi hanno chiesto perché Palermo, dopo questo straordinario sviluppo industriale degli anni degli imprenditori stranieri, del Florio, questa ricchezza improvvisamente scompare. Una delle risposte l'ho trovato in uno del bellissimo libro di Orazio Cancina che si chiama Storia dell'industria in Sicilia. Succedono due cose. La prima cosa che succede è che è precedente e che è relativa alla fine del Settecento e alla prima metà dell'Ottocento e che c'è la prima rivoluzione industriale e che quindi gli investitori, gli imprenditori cercavano luoghi dove ci fossero risorse e dove ci fosse manodopera a basso costo. Nel 1861 a Palermo succede una cosa che non era mai successa fino allora e non succederà mai più e cioè se ne va il governo della città. Palermo è sempre stata una città di governi. Le città di governi si vedono, hanno le piazze che sono la scenografia, sono lo scenario del potere. hanno i bialoni per le parate e hanno un tipo di rapporti che sono rapporti basati su gerarchie, su favori, su rapporti personali di potere. Le città industriali non hanno né questa bellezza perché le città di governo sono bellissime né questo tipo di rapporti. Le città industriali si basano sulla concorrenza, cioè sul tentativo di migliorare la qualità del prodotto. A Palermo per un breve periodo che va dall'unità d'Italia all'arrivo della regione siciliana non c'è il governo. Quindi ci sono gli imprenditori che portano il denaro e le competenze, ci sono le risorse, c'è l'uva ma non fanno il vino, c'è il sommacco ma non fanno il tannino, c'è lo zolfo ma non sono capaci di estrarlo e quindi arrivano in grandissima quantità questi imprenditori stranieri con l'unità d'Italia ce ne sono anche delle aggelovazioni fiscali. Uno dei luoghi più emozionanti di questa città è il cimitero degli stranieri che è vicino ai Rotoni dove si attraversano, io credo centinaia di tombe, si chiama cimitero acattonico, non è un cimitero dove ci sono rappresentazioni religiose e i noni sono tutti stranieri, sono Eccar, Fisch, Lecerf, Whitaker, Oliver, sono inglesi, francesi, tedeschi, svizzeri, moltissimi e gli Arendt fanno parte di questo fenomeno che poi finisce quando ritorna a Palermo a essere una città di governo. Volevo spendere qualche parola anche alla tipologia di lessico, linguaggio utilizzato che è un impatto decisivo, scorrevole, preciso, puntuale, ogni frase esprime un concetto. Dicevo poco fa senza perdersi i norbelli che secondo me adesso nella contemporaneità non servono più a nessuno. È un linguaggio puntuale, esplicativo e visivo perché ogni frase, almeno a me, suscita un... come se io vedessi ciò che l'autrice desidera scrivere e tutto ciò spiegato senza... io ho detto poco fa come se fosse stato fatto un laborlime, cioè proprio un taglio di tutto ciò che è superfluo e si mantiene invece semplicemente tutto ciò che è essenziale e che è diretto. Inoltre, sempre dal punto di vista stilistico, io sono molto... osservo molto gli indici e notavo poco fa appunto la divisione di questo volume in quattro parti. La prima parte dove si parla appunto... si parte da Albert, quindi dal 1875 e lo possiamo chiamare una specie di introduzione. Poi abbiamo la seconda parte dove appunto non per niente si chiama Gli anni felici ed è come se descrivesse una specie di ascesa, un'acme di tutto l'intreccio dell'escursus. Dopodiché, dopo l'acme non può che esserci il declino come ci spiegano anche i grandi oratori, quindi il De Repubblica, cioè come la storia che è quasi circolare. Quindi quando si raggiunge l'acme non si può che scendere, quindi c'è un declino che culmina con la fine della seconda guerra mondiale, quindi 1945, ma poi c'è una quarta parte. Questa quarta parte, questa quarta parte non per niente si chiama la continuità e io volevo chiedere appunto ma quanto c'è di continuità in questa quarta parte e quanto c'è invece di risalita o di cambiamento, di modernizzazione, quindi continuità intesa in che senso? Non userei il termine risalita. Certo, c'è una ripresa, c'è un cambiamento della storia, per cui dopo la seconda guerra mondiale tutti i paesi che avevano vissuto la tragedia della storia riprendono e ricominciano a risalire. La continuità della famiglia Arendt è una continuità, è quello che dicevo prima, è una continuità di persone e di valori. Le persone perché Ioanna, la moglie di Albert, la capostibite, muore a 106 anni, io l'ho conosciuta, quando lei è morta io avevo 8 anni e Ioanna rimane, noi la chiamavamo la nonna Mutter, rimane la nonna di tutti, rimane il riferimento, si andava a trovarla e lei era modernissima. mia madre era il suo medico e io me la ricordo, la nonna Mutter, che diceva Giglioletta tu non puoi dedicarti così tanto al lavoro, devi avere qualche vizio. Ecco, ora una donna nata nel 1858 che dice devi avere qualche vizio è una donna che quantomeno ha una visione molto aperta della sua vita. e poi la continuità sta nel legame, questo legame, questa famiglia che diventa sempre più ampia ma che mantiene il legame, che mantiene la lingua, che mantiene la conoscenza delle informazioni. Pensa che Ioanna ha inventato la rete prima di internet, dopo la guerra ha raccolto gli indirizzi di tutti i parenti che erano sparsi in tutto il mondo e ha cominciato a scrivere delle lettere circolari, arrivavano notizie da tutto il mondo, venivano raccolte in un'unica lettera che ripartiva uguale per tutti. E' internet, e' la rete in tedesco, quindi la continuità è la lingua, la continuità è la famiglia, la continuità sono i legami e i valori. Un capitolo del libro si chiama Messina e si collega al terremoto di Messina del 1908 che la distrusse completamente. In che modo la famiglia Arendt si lega con il terremoto di Messina? Perché è un capitolo che riguarda Messina e il terremoto? Allora, distinguiamo il romanzo dai fatti. Del terremoto di Messina noi, quando dico noi, dico i cugini, abbiamo le fotografie fatte da Erwin che era il figlio maggiore di Albert e Ioanna che in quell'epoca aveva 23 anni. Cioè, le fotografie ci sono quindi lui c'era andato. Poi c'era un racconto, sicuramente un racconto che mia nonna ha fatto a me e sicuramente l'avrà fatto anche gli altri. Ioanna che cammina in mezzo a queste file di feriti e a un certo punto un ferito le tira la gonda e le chiede aiuto e le dice principessa. E lei lo guarda, lo aiuta e gli dice guarda che non sono una principessa. Ecco, queste sono le cose che ho. Le altre me le sono immaginate. Mi sono immaginata che Albert non fosse affatto contento che Ioanna andasse ad aiutare al terremoto. Il terremoto di Messina è stato terribile. Per almeno due giorni non si è saputo che c'era stato... Stiamo parlando di 50.000 morti. Il terremoto di Messina ha significato anche la distruzione delle carceri, la perdita del controllo del territorio, quindi sciacallaggi, furti. Poi tutti quanti sono arrivati ad aiutare. I Florio hanno fatto una nave ospedale, la regina era lì con... Io ho immaginato che Ioanna, come tutte le donne sono intraprendenti, sia andata lì ad aiutare. Ho immaginato anche che Albert dicesse no, tu da sola non ci puoi andare. Diceva, no, non mi porto il più grande dei figli maschi. Partivo dalle fotografie. È impressionante la storia del terremoto di Messina. Tra quello che ho studiato, le fotografie di Erwin, che sono bellissime, e un racconte di casa. Mi viene in mente un'associazione, non so, magari giusto o sbagliata, mentre stiamo qui parlando, appunto, che l'autrice diceva che sono un mettere per iscritto una serie di racconti narrati anche ai familiari, quindi tramandati, quando appunto diceva sicuramente avrà raccontato la stessa cosa ai miei cugini. È come se fosse un'oralità, quindi un ritiamo anche all'epicità del racconto orale, che viene messo per iscritto. E secondo me questa è una cosa bellissima, perché viene sancita comunque la storia, ricordo, di una famiglia con proprio le stesse parole, i stessi detti, le stesse immagini, perché comunque questi racconti poi vengono raccontati così tante volte che diventano immagini, viene sancito a livello proprio unico nella scrittura di questo volume che è appunto da leggerlo, dovete leggerlo assolutamente, non possiamo svelare più di quanto già non abbiamo svelato. e la faccio io la domanda, tanto così mi sento. Perfetto. Buonasera a tutti. Una parte significativa del libro è legato al ventennio fascista, e quindi alle origini degli Arez. quindi la domanda è come si sviluppa a quel punto la storia di Albert e della sua famiglia e quali sono state le conseguenze. L'altra domanda, però te la faccio fare, però la d'Agostino riguarda Casa Arez, perché mi sono chiesto quanto sia protagonista in questa del libro. Io per rispondere a una domanda sul ventennio fascista devo parlare di mio nonno Vincenzo Orraia. E qui però faccio un passo indietro, perché queste sei sorelle, la grande apertura mentale di questa famiglia si riconosce nella scelta dei generi, i mariti delle sei sorelle, delle cinque sorelle, perché Marta non si sposa, non potrebbero essere più diversi tra loro. Il marito di Berta è un aristocratico, i mariti di Vera e di Olga sono degli imprenditori di famiglia aristocratica. Mio nonno era un politico socialista pieno di passione, capace di trascinare veramente i popoli, capace di organizzare venti cooperative agricole in quegli anni nelle madonie, uno che voleva la riforma agraria, lui era un agronomo. A un certo punto da politico diventa presidente della regione, della provincia di Palermo. quando c'è l'assassinio di Matteotti, il nonno Enzo, Vincenzo Arraia, presidente della provincia, scioglie il consiglio dicendo che non ci sono più le condizioni per un governo democratico e scappa, scappa in campagna inseguito dalle milizie fasciste. Ecco, questa è, diciamo, la punta di diamante dell'antifascismo di famiglia. Però, certamente, in un primo tempo il fascismo veniva visto come un possibile governo di ordine. Però, invece, l'avvicinamento alla Germania e poi, alla fine, le leggi naziali sono stati quelli che hanno dato il colpo di grazia, principalmente alle condizioni economiche della famiglia, perché le industrie di Albert vengono inserite nelle liste di quelle che non potevano avere più di 100 dipendenti, non potevano essere di proprietà di famiglie ebree. E, piano piano, questo matrimonio si scarina, si perde, le industrie vengono chiuse. Finché, io penso, per salvarsi, per acquisire qualche privilegio, se volete, che consigliessi di salvare la pelle, la villa viene ceduta, viene svenduta al demanio militare. Io ho fatto delle ricerche all'archivio di Stato, alla ricerca di questo roggito notarile, ho trovato sei pagine su sedici, quindi non ho mai trovato la cifra esatta, però ho trovato tutta una corrispondenza con con le valutazioni. Albert offriva una cifra, gli rispondevano di meno, alla fine si accordano per una cifra orientativamente, io ho fatto la proporzione, era il valore di un appartamento di quattro stanze, Villarens aveva 22 saloni e poi aveva tutta la parte produttiva, tutto lo stabilimento enologico, poi aveva il giardino, il frutteto, era una struttura enorme, quindi Villarens passa al demanio militare, gli Arens vanno a vivere in via Loiacono, viene dichiarata edificio strategico perché diventa deposito di materiale militare, sui magazzini, i magazzini, sullo stabilimento enologico vengono messe i midi di mitragliatrici perché è una postazione antiaerea e viene bombardata, io mi ricordo quando mia madre mi portava in giro faceva il medico anche a San Lorenzo si passava e si vedeva questo nudere diceva vedi questa Villa Arens il giardino di delizie la casa di legno sul ficus noi che andavamo in bicicletta in questo giardino ed era un nudere c'erano ancora i segni dei bombardamenti poi nel 2012 invece c'è stato questo finanziamento dell'Unione Europea e per fortuna è diventata la sede della DIA che è una bellissima destinazione Albert sarebbe stato contentissimo non mi sarebbe piaciuto se fosse diventato un albergo ha mantenuto un valore civile che rimane ancora e devo dire quelli della DIA sono molto consapevoli di questo fanno una cosa buffissima c'è una grande fotografia di Albert l'ingresso tutti i giorni entri lo salutano un giorno come da lui dicono noi siamo ospiti di Arens e sono stati veramente molto affettuosi quando abbiamo fatto la prima presentazione eravamo lì quando eravamo 40-50 praticamente c'era solo la famiglia e ci hanno salutato io e sono bentornati a casa sono proprio bello io ci va telefono la DIA dico passo con un amico e chi per loro non è ancora buono allora ci abbiamo perso la fine non mi piacerebbe che qualcuno vi ha messo una domanda o quale curiosità chi magari ha letto un libro avesse curiosità da chiedere alla polizia chiedevano se la villa è visitabile a livello turistico per le vie dei tesori è stata inserita nelle vie dei tesori e quindi è visitabile il cortile è visitabile alcune parti quando io ho chiesto se si potevano visitare le cantine che sono delle cattedrali io ho visto le fotografie mi hanno detto sono gli archivi segreti della via quindi non è che proprio si può visitare tutta però si può visitare tutta ringrazio Agata Bazzi per questo momento dicevolissimo non continuiamo perché il libro va acquistato va letto esattamente ringrazio Agostina che ci ha dato una mano in questa presentazione mi piaccio poi insomma siete venuti alla vita grazie